E no al taglio dei fondi europei a sostegno delle politiche agricole che se attuati penalizzerebbero fortemente la Lombardia. La presa di posizione unanime è arrivata dalla Commissione Agricoltura che ha approvato una risoluzione che andrà al vaglio del Consiglio regionale il prossimo 17 luglio e con la quale si chiede al Governo di attivarsi con Bruxelles per scongiurare l'ipotesi. Sentiamo il Presidente della Commissione Agricoltura, Ruggero Invernizzi. Ho avuto un voto unanime in questa risoluzione, un proposto di risoluzione, voto unanime di tutta la Commissione per cui questo è molto positivo perché è una risposta importante o comunque una richiesta importante che viene fatta a Regione Lombardia perché continua a supportare la Regione, gli agricoltori della Regione Lombardia di fronte a questo possibile taglio nella nuova PAC 2021-2027, un taglio che potrebbe naturalmente voler dire in media un 8% in meno rispetto al passato o anche di più e dai 30, 40, 50 milioni di Euro per un taglio alla nostra agricoltura, il che sarebbe drammatico.